È stata una bella sorpresa, diciamo, una vetrina nazionale e anche internazionale è sempre una soddisfazione per uno scrittore. E poi soprattutto io sono curiosa, curiosa di ficcare il naso, se vogliamo, in questa realtà tanto decantata che comunque mi appare, diciamo, da quello che so, veramente autorevole anche da un punto di vista culturale. Cosa porterà di Avellino e dell'Irpinia a Sanremo? L'identità, spero, l'identità irpina che è anche la dignità di questa comunità, dignità culturale, dignità, diciamo, socio-antropologica. Cioè me stessa, come esponente in qualche modo, chiaramente non posso rappresentare tutto e tutti, però come irpina convinta dei valori della propria terra che possono essere confrontati in questo momento così complicato dell'umanità con altre realtà.